Ragazzi ci troviamo su Among Us con un sacco di youtuber C'è Fabi J, c'è Lorenzo che sarà l'impostore anche stavolta C'è Mike, salva tu Porca trota, non sono l'impostore, ok Vediamo subito, mamma mia mi sto cagando addosso perché qua sono tutti i ritriharder Facciamo una cosa velocemente, scarichiamo Nessuno mi uscirà se scarico adesso, dai Siamo tutti qua, siamo tutti amici Non è Lorenzo, non è Lorenzo Dai, non può essere, bene, tutti assieme Bella Fabi Avete paura del mio fericottero? Tutto a posto, non voglio morire Non fare le task perché le task ti uccidono Le task ti uccidono qui Oh, stanno già facendo casino Non so, vado per giù, vado per giù ragazzi Per giù nessuno mi killerà Oh, oh Raga La pancia, la pancia Ho visto Fabi J che spezzava l'osso del collo È morto Mike, non ci credo Ho visto Fabi J che spezzava l'osso del collo a Mike Ragazzi mi sono preso una spagna Ma io Fabi J l'ho visto in admin Posso parlare Lo stai difendendo, eh esatto È morto in admin È vero, io ho fatto la task quella dei nevi come si Ha dei cavi che devi collegarsi Senti come balbetta ragazzi Però sta balbetta un po' troppo Anche a me sembra un po' sospetto No, è un po' nervoso La pancia, la pancia ha detto È anche il fenicottero Mike, questo è per te Se è stato vendicato Bambi la vista Cioè l'ho visto Cioè ragazzi Riguardiamo il replayer a lui Spero di sì ragazzi Non credo di essermi sbagliato insomma Dai, perfetto Facciamo velocemente la task Io so che vogliono uccidermi velocemente Lorenzo l'ha coperto Cioè Lorenzo porca vacca l'ha coperto No Lorenzo No Lorenzo Porca trotta C'ho Lorenzo dietro C'ho Lorenzo dietro Vediamo sono tutti qua Bene Bene Porca zozza Guardate le telecamere Guarda ti copro che noia Ti copro che noia Ti copro che noia Stiamo attenti Porca zozza Io lo so che qua ci sono dei passi No Mark Io non so di chi fidarmi Ho paura di tutti Facciamo velocemente l'altra task Devo essere rapido Rapido indolore Rapido indolore Oh mamma mia C'era Marci morto davanti alle telecamere Ah che è successo E ho trovato il cadavere di Mark Ma di solito stavi sempre tra telecamere Che noia Come mai c'era Marci Sono stata lì all'inizio inizissimo Poi subito mi sono spostata in realtà A me è un po' sospetto Che di solito tu eri la signora delle telecamere Sei sempre a telecamere Ma raga ma cosa vuol dire Ma non c'ero lì e basta Io che noia l'ho vista Comunque venire a fare la task dell'ossigeno Ti piano? Io schiferei Per me è tra che noia e Lorenzi Anche Power che parla poco Non capisco Cioè Power parla veramente poco Se lo sta tryhardando Quindi Dov'è? Che dobbiamo andare? A Reactor Facciamo reattore Velocemente Perfetto Grande Power Mark che fai? Facciamo tutte le task velocemente Mamma mia se me la sto tryhardando Mamma mia se me la sto tryhardando Mamma mia Mamma mia Mamma mia C'è che noia dietro C'è che noia dietro C'è che noia dietro Allora Fere l'ho trovata Nel corridoio di destra Sì è molto sospetto Lorenzist Vero Vero Gabby Perché andava sulla destra così Io ho visto tutti più o meno sulla sinistra Power che era in electrical Allora io ho visto Gabby salire in electrical Sì io stavo controllando Io mi guardavo un po' attorno Avevo paura di tutti sinceramente L'unico che veniva in electrical in ritardo Era Mark Io ho incrociato Gabby davanti al medico Io non credo che sia che noia Perché poteva A meno che non avesse avuto il cooldown Non mi ha ucciso quando eravamo soli Quindi L'ho trovato un attimino di più Però può darsi che appena ho ucciso uno E ne aveva Avesse il cooldown Io ho paura Gabby eravamo sempre vicini ragazzi Ti tranne poco dopo la crisi Che ci siamo divisi Vero Ma se era a destra il cadavere Gabby non lo può aver raggiunto così Io ho un piccolo dubbio in confronto di Lorenz Sì anche io Dimmi dimmi tutto No No diciamo che sei sempre così da solo Un po' per conto tuo Che poi trovi il cadavere E all'inizio è prodotto Non si tratta a fare le tasche Raga io lo voto Io voto loro Io pure Io pure me la sento Io pure me la sento Salfreport Ve lo dico ragazzi Io l'unica persona che ho visto Che è da destra È andata a sinistra Che noia Eh adesso si tocca a me Così La fine è così Adesso vediamo Se sei tu Lorenzo guarda Non era lui Non era lui Non era lui Sarebbe finito Non era lui Porca trota Porca trota Porca trota Baccaladra Eh L'abbia mintata Io rivoterei subito Io rivoterei subito No raga Non sono io No Alla fine Lorenzo Si è messo così da caso Da accusarmi Ma non è vero Abbastanza sicuro Che io Mark e Gabby Non possiamo essere Cioè non possiamo aver fatto La kill Secondo me è Martino No era la corsa A meno che però Non hai fatto una roba Con i venti in elettrica All'assurda Ma eravamo L'hai guardato tu Mark Secondo me Power è impossibile Che abbia fatto qualcosa Con l'event Perché è letteralmente Stato con me Tutto quel round Cioè praticamente Quei giri lì L'abbiamo fatto Allora Cioè secondo me Ecco è noia Perché il fatto Che la morte Telecamere Così guardate Che finite Tre contro uno E poi ci vuole niente A perdere Si 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 Ci vuole niente A perdere così ragazzi Non sono io Cioè veramente Se è power dopo Perché secondo me Power se non è Che noia Boh Complimenti Un applauso Io mi sento in colpo Però se io sto Stando in confusione No Ah su di me Che sono innocente Su che sono innocente Cosa devo votare Era troppo difficile Finalmente Finalmente Capeli rossi Finalmente Finalmente 9 3 9 4 5 Ok Perfetto Benissimo Devo stare attento A power Molto bravo Forse è il primo Che deve morire lui Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Questa è la partita Della partita Della partita Della vita Questa è la partita Della partita Della partita Della vita Subito Steph Anche power Anche Mike 3 persone Incredibile Io sono Dove Dove raga Electrical Perché avevo 3 task Ho trovato un corpo Raga Allora In elettrica Come c'erano Gabby Mi fa vj e marci E c'erano pure io Come c'erano pure io Allora Io mentre andavo ad electrical Ho visto uscire quasi tutti C'eravate quasi tutti lì E io poi sono andata E ho trovato un corpo Quindi è stato qua Quando c'era dentro Io non c'erano Anche non erano in elettrica Non mi ricordo Se c'era power C'era power qualcuno No c'è io ho visto marci Onde marco ho visto C'era pure gabby In elettrica Io ho fatto la tasca Velocemente E sono uscito Scusate ma Fer è morto in elettrica Steph Allora Io in elettrica ero lì Con fabi Martina E c'era lorenz Io vi voglio sapere Dove sono marco Gabby Fer l'ha trovato Quindi manca un marco Gabby No io sono venuto in elettrica In un attimo Ho fatto la tasca Poi sono uscito Io posso dire che però Ero in security Visto le telecamere C'era lorenz Che camminava un pochino a caso Un po' sospetto Lorenzo C'è sempre tu l'impostore Ancora dai Ti prego No Ma perché devo essere Scusate ma siete Siete tutti usciti Dove cosa avete fatto Gabby Dove sei andato dopo Io sono andato giù Dopo Sono uscito Sono uscito verso destra A fare le mie tasche Parci Io non sono proprio uscito Raga da elettrica Ah non sei uscito Eh la ve l'hanno chiamato subito Era in alto Che stava facendo i cosi Che girano Mi avete pure visto Voi due Aspetta in alto dove In alto in elettrica E c'era un calavero 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 Era lì dentro Marci un po' sospetto Raga io voto Marci A sto punto Ma rega ma non l'ho fatto Ma siete scherzando L'ultima frase non mi ha convinto tanto Io l'ho votato Strano però Devo fare un altro video Tra i miei amici Mi tradiscono Non ho parole Ciao Non siamo due amici No Colpo il cuore No Povero Marci Scusami Marci Se stai vedendo questo video Scusami Scusami tantissimo Non farle finta di farle task Ok Perfetto Ok controlliamo le telecamere Perfetto Fer è lì Ok Fer è da quella parte Che noia Perfetto Dovevo far fuori che è noia Andiamo a far fuori che è noia Stanno facendo troppo pazzo Vediamo dove sono Security Devo far fuori qualcuno in security Devo far fuori quella in security No Raga Ho visto un corpo in security Ragazzi Ho visto un corpo in security E Mark Mark è passato E non l'ha riportato Mark non l'ha riportato No No Fammi parlare Adesso parlo io Mamma mia Mamma mia No 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 Io E Gabby E Lorenzi Stassano entrambi No 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 Mi spiace No No Mark Non me l'aspettavo Allora fa BJ e Mark Allora fa BJ e Mark Stanno coprendo le spalle No No Gabby Ti prego Vota Mark Guardami negli occhi Guarda la mia visiera Guarda gli occhi dietro la visiera Fidati di me Tutta la partita Tutta la partita Che Cerco di dirvi Chi è E non mi ascoltate mai Io di solito mi fido di Gabby No 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 Ma che c'era Alla No Ma ragazzi Ma io No ragazzi No No Io Io me ne vado Ma io me ne vado Mi dispiace Ragazzi Ma no Mi dispiace Abbiamo perso Non ho parole Abbiamo perso Sei pazzo Ragazzi Ragazzi Ti odio No Gabby Gabby Ho usato la tecnica di power Ho alzato la voce Abbiamo Ragazzi Non mi hai fatto parlare Gabby Un mito Basta No ragazzi Non mi hai fatto parlare Te l'avrei detto Non ci credo Ragazzi Non mi mettete difficoltà No No Io Io ragazzi Una domanda Perché mi avete votato Io non ti ho voluto votare Marci perché mi sembrava assurdo Cioè Io non ho votato Io non ho riportato il corpo Perché ero Volevo essere sicuro Che fosse Lorenzist L'altro che era uscito dalla stanza Gabby mi ha ucciso Ed è uscito dalle ventole Quindi l'indizio era Chi non è uscito da elettrica Eh infatti è quello che ho chiesto Però Io veramente Che è un'altra Grazie a tutti Grazie a tutti Che è un'altra